Proposte dalle Lusinghe dell'Antagonista Centro spirituale Frattocchie, attraverso Flora, a cura di Vubi. Le forze del male aspettano i momenti in cui la mente, la nostra materia anima-spirito, è dolorante, desolata e mortificata, per intervenire con impulsi e onde sonore malefiche, affinché vi sia ribellione al Padre. Tali onde influiscono nel cervello che incamera tutte le cose materiali proposte dalle Lusinghe dell'Antagonista. Occorre in tali momenti avere la coscienza sveglia e abbandonarsi a Dio. Ciò è indispensabile per non essere presi dal sonno dell'anima, che è molto dannoso in quanto subisce l'infiltrazione di forze malefiche che potrebbero danneggiare le parti intime del nostro essere. Quando si compie un'azione contraria all'evoluzione spirituale e si ristagna nella materia con i nostri pensieri ed opere, questo ristagno si incide per riflesso nell'anima che si appesantisce e si avvolge con veli oscuri che velano i raggi del nostro spirito. Tutte le azioni, buone o cattive che siano, sono conosciute dallo spirito che le trasmette al nostro cervello, camera oscura e parte spirituale, attraverso la coscienza individualizzata per tutta la durata della vita terrena dell'essere incarnato. Grazie a tutti i nostri spettatori